Eredi di clan e di organizzazioni criminali del passato, molti di loro già arrestati più volte per spaccio e traffico di droga in provincia di Salerno. E Luca Franceschelli, 34enne salernitano, già noto alla giustizia in precedenti operazioni che lo hanno portato in carcere per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente con relativo finanziamento degli acquisti di vari partite anche dall'estero. Il capo dei gruppi criminali con Fabio Salzano, 27enne salernitano, entrambi finiti nuovamente in manette questa mattina con altre 43 persone nell'ambito della vasta operazione antidroga interprovinciale della squadra mobile di Salerno che, coadiuvata dagli agenti di altre questure tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio di Salerno e dei comuni vicini anche dell'agro. La droga veniva acquistata nel napoletano, un volume di traffico notevole da 70 a 100 mila euro mensili, un via vai continuo per l'acquisto e lo spaccio che non si è fermato neanche durante il periodo del lockdown. Incontri che coincidevano con quelli consentiti al supermercato come al tabacchi in prossimità delle farmacie, alle poste o ai distributori di benzina. Alcuni degli arrestati ai domiciliari commissionavano il lavoro alle mogli. La droga durante le conversazioni telefoniche veniva definita profumi, mentre quando c'era la polizia in giro si affermava che c'era pioggia. Questi alcuni dei dettagli dell'operazione spiegata ai nostri microfoni dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra. Alcuni dei odierni arrestati sono persone che già conoscevamo, a volte anche eredi di clan o di organizzazioni del passato, come lei ben cita adesso. Per cui il nostro monitoraggio è continuo. Noi partendo dal monitoraggio che facciamo nei confronti dei clan e della criminalità organizzata, spesso ci accorgiamo di tutte le loro attività. E in questa circostanza, questa è un'attività che seguiamo ben dal 2019, con rivolte anche nel 2020, durante il lockdown, e nella quale abbiamo scoperto che alcuni degli odierni arrestati, ripeto, sono persone che hanno ereditato questa attività dal clan anche del passato, del Salernitano. Non è mancato lo spaccio, lei faceva riferimento durante il periodo del lockdown, dove si spacciava e in che modo? Sì, approfittavano ovviamente delle aperture, delle finestre consentite dalla normativa vigente, per cui ci è capitato di vedere persone che si incontravano davanti alla posta, si facevano la fila fittiziamente davanti alle poste per scambiarsi informazioni o anche merce, davanti ai supermercati, davanti alle farmacie, ovunque era possibile, facevano di tutto per potersi far notare. Alcuni di questi erano agli arresti domiciliari, mandavano le proprie donne, i propri figli addirittura a comprare la merce. Tante intercettazioni ambientali, telefoniche, che cosa si è scoperto? C'era anche un linguaggio particolare per potersi incontrare e per cedere la droga? Sì, loro usavano in particolare una terminologia che teneva i profumi, citando alcune marchi di profumi, o usavano la parola toro per dire cocaina, quando vedevano la polizia in giro diceva che stava piovendo, ovviamente cercavano di individuare un linguaggio cripto, ma l'esperienza e la capacità professionale dei poliziotti ormai fa sì che ci si riesce facilmente a decifrare e interpretare questo loro linguaggio. Che stima di spaccio si è avuto durante tutto questo periodo di indagini e soprattutto che tipo di droga si spacciava in modo particolare e con che costi? Guardi, la droga era di tutti i generi, abbiamo avuto la cocaina, l'hash, l'eroina, e la cifra è abbastanza notevole. Si parla di un traffico dai 70.000 ai 100.000 euro mensili e quindi questo è tra l'altro nell'operazione di stanotte è stata sequestrata una somma, adesso che va tra i 700.000 e il milione. Abbiamo sequestrato qualche pistola, abbiamo sequestrato altra sostanza stupefacente, per cui l'attività è piuttosto notevole. E questo mi piace rimarcare ancora una volta l'operato del nostro personale, dei nostri investigatori, che in un periodo quale questo, che voi conoscete benissimo, ci sta impegnando su tutti i fronti, anche nell'attività ovviamente dei controlli anti-Covid, hanno consentito di fare un'operazione per la quale solo per il numero degli arrestati, che è di 45, voi potete immaginare che seguire 45 persone in tutte le loro attività, con gli appostamenti e pedinamenti, è un'opera veramente grande. Però noi vogliamo che la gente di Salerno, della provincia di Salerno, sappia e si renda conto, anche con queste operazioni, che noi non ci stanchiamo mai, la nostra attività è veramente continua nell'interesse di perseguire ogni attività criminale della provincia.